Le piogge degli scorsi giorni non placano la sete dei campi. Per Coldiretti Padova le due gocce, così definite, di inizio settimana sono insufficienti per le coltivazioni. Dai colli all'alta e bassa padovana gli agricoltori hanno già iniziato a irrigare i campi. Non si erano mai visti getti d'acqua nei campi di grano in questa stagione, spiega Paolo Minella di Coldiretti Padova, mentre da un paio di settimane si ricorre all'irrigazione un po' ovunque. Gli agricoltori sono costretti ad irrigare sul terreno nudo addirittura prima di seminare e il caso dei campi preparati per la soia induriti dal sole e dal vento. Gli effetti negativi della siccità si sommano alle difficoltà legate all'emergenza coronavirus che ha ripercussioni anche sulla produzione e sulla vendita dei principali prodotti agricoli. Che la situazione non sia rosia lo testimonia il fatto che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha avviato con 20 giorni di anticipo le operazioni di preparazione della rete idrica di competenza per la distribuzione di acqua. Siamo partiti con l'irrigazione molto presto e se non succederanno cose straordinarie, penso a periodi piovosi, lunghi, penso a che ci sia tanta neve che non vedo e che nessuno mi ha raccontato che c'è, la stagione si presenterà davvero complicata. Da parte nostra cercheremo di adoperare tutta la nostra forza, adoperando anche le nostre conoscenze con la regione, con gli uffici, affinché tutta l'acqua che scenderà dallo snodo di Padova verso il Naviglio Brenta e verso il Novissimo riesca ad arrivare a Chioggia.